Salve a tutti, sono Emiliano e ho un bellissimo ricordo del mese di giugno, perché l'altro anno, proprio in questo periodo, mi stavo per sposare con quello che è diventata mia moglie, Cadiuscia, una persona stupenda, e in quel giorno ho testimoniato davanti a tutti che volevo prenderla per moglie e soprattutto l'ho fatto davanti a Dio. Oggi mi si presenta di nuovo l'occasione di dare un'altra testimonianza, ma di fede, perché ho deciso di battezzarmi e vi volevo raccontare la mia storia, di come mi sono riavvicinato a Dio, se poi lo fossi mai stato. Premetto che vengo da una famiglia cattolica, ma Dio per me era una cosa così lontana e astratta. Ho frequentato la Chiesa Cattolica e per un periodo, ma poi mi sono allontanato e non ho più voluto saperne. Avevo cancellato Dio dalla mia vita. Non riuscivo a sentire Dio facendo delle preghiere imparate a memoria, ma fino a che all'inizio del 2015 mi sentivo un vuoto dentro e non riuscivo a spiegare che cosa fosse e mi confidai ad una mia amica che frequentava una Chiesa Evangelica. E la prima cosa che incominciò a parlare di Dio è che lui poteva riempire il mio senso di vuoto, ma con molto scetticismo le dissi che non mi sembrava questa la soluzione al mio problema, anche perché ho pensato sempre che se nella vita uno si comporta bene, poi sarà Dio a giudicare. E così il primo maggio di quell'anno, mentre stavo camminando per strada, fui avvicinato da una persona che mi disse di fermarmi, insistendo almeno 4-5 volte, prima di convincermi a rimanere e a farmi ascoltare alcune testimonianze su come Dio abbia agito nelle loro vite. Da quel giorno qualcosa cambiò dentro di me e non seppi darmi una spiegazione, ma sentì che qualcuno mi aveva chiamata. E la prima cosa che feci è iniziare a leggere la Bibbia, ma più leggevo e più volevo sapere e comprendere alcune cose che non mi erano chiare. Iniziai a fare delle ricerche su internet, incuriosito dalla Chiesa Evangelica, trovai proprio quella di San Lorenzo. Devo dire che prima di venire qui avevo dei dubbi, in quanto non sapevo niente della Chiesa Evangelica. E dopo un po' mi decisi ad andare e subito capì che era quello che stavo cercando. Così iniziai a frequentarla e anche grazie ad alcune persone della Chiesa, come Tonino, Gabor, Mila, incominciai a provare una profonda gioia nel lotare Dio con canti, preghiere, cosa che non avevo mai provato nell'andare in Chiesa. E' proprio con la preghiera che ho iniziato a rivolgermi a Dio e a portare le mie ansie, le mie paure, le mie scelte e anche dipentirmi di quei peccati che non avevo neanche preso in considerazione nella mia vita. Ma quello che poi mi ha dato tanto e fatto conoscere e avvicinare ancora di più a Dio è stato il gruppo a scoprire. Un gruppo perché ha dubbi sulla fede e su Dio. Quello che voglio testimonare oggi è perché oggi è che per quelli come me che si sono allontanati da Dio possono riavvicinarsi a Lui in qualsiasi momento attraverso persone o situazioni inaspettate che il Signore ci manda proprio sempre, pronto sempre ad accoglierci. Amen. Quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti battezziamo. Grazie. 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 Grazie.